Nel mondo esistono circa 100.000 varietà di riso, in Italia invece le più utilizzate sono circa 7-8. Beh, Balilla, una vecchia qualità, e Vialone Nano usate per insalate e minestre. Roma, utilizzato per fare ripieni e per fare insalate. Arborio e Carnaroli e anche il Baldo, ottimi per del risotto, ricchi di amido, una cottura lenta e rilasciano l'amido man mano, quindi il nostro risotto sarà molto più vellutato e cremoso. La zona di origine maggiore di produzione del riso è Percelli, conosciuta per le sue immense ed infinite risaie, Novara e i confini con la Lombardia. Risotto abbiamo detto termine italiano, termine che non ha significati tradotti. Risotto è risotto. Il risotto è una tecnica di cottura che come abbiamo visto ci permette di fare una buona tostatura iniziale e una cottura a fuoco vivace in maniera che l'amido venga rilasciato a poco per volta e il nostro riso rimanga cremoso. Poi solo una buona mantecatura alla fine darà l'ottimo risultato al risotto, beh, riconosciuto da tutti i gourmet di tutto il mondo. Che dire, con tutte queste qualità di riso non vi resta che provarle.